Buon pomeriggio cari amici fan, è stata una bellissima partita quella tra Spal e Sassuolo, anticipo al lancio match spezzatino della giornata numero 23 del massimo campionato di Serie A di calcio maschile italiano dove la Spal nonostante era in vantaggio grazie alla rete di Bonifasti nel primo tempo ha subito nella ripresa rimonta con Caputo e poi Boga, un 1-2 terrificante che porta al Sassuolo tre punti importantissimi che la piazzano al momento a 29 punti in dodicesima posizione, due vittorie di file, terza nelle ultime cinque partite per la Spal continuano le sconvitte terza di fila, quarta nelle ultime cinque, ventesima posizione con 15 punti. La Spal che settimana prossima sarà impegnata a Lecce in quello che è sicuramente uno scontro salvezza, Lecce 17 a 19 punti impegnato quest'oggi a Napoli, mentre Sassuolo giocherà in casa contro il Parma che occupa al momento la posizione numero 9 con 32 punti e oggi giocherà in casa contro la Lazio. Quindi chiudo ribadendo che il Sassuolo ha vinto in rimonta grazie ad un 1-2 terrificante nella ripresa in gas dalla Spala Ferrara per 2-1. Noi ci vediamo più tardi dove credo arriveranno gli ultimi due video e poi basta per oggi. Ciao!